E purtroppo lo avevano annunciato ieri nell'intervista che ci hanno concesso nel loro podere. I lupi sono tornati infatti puntuali come esattori delle tasse a riscuotere il loro tributo di vittime nel recinto dove la famiglia Brau teneva i quattro esemplari di cape rimasti dopo le incursioni dei giorni scorsi. Questa volta i lupi hanno banchettato con il bersaglio grosso il caprone il quale nonostante la sua mole non è sfuggito al suo tragico destino. Hanno agito certamente dopo le tre di notte dice Brau al telefono perché fino a quell'ora sono rimasto sveglio a sorvegliare il recinto poi sono andato a dormire e questa mattina ho trovato la carcassa dell'animale poco distante dal recinto più o meno dove ho trovato le altre nei giorni scorsi quindi con tutta probabilità sono arrivati sempre dalla stessa parte. Ormai ci dice sconsolato la strada la conoscono e sanno che qui c'è cibo facile. Ma oltre al danno perché allieva per diletto gli animali e non professionalmente c'è anche la beffa del costo dello smaltimento delle carcasse che si aggira attorno ai 70 euro a capo senza però poter richiedere alcun risarcimento. Proprio però per venire incontro agli allevatori invece la regione Marche è corsa i ripari con fondi europei previsti dal PSR 2014-2020. Lo scorso anno infatti sono state ben 153 le domande di risargimento pervenute per un totale di un milione e 600 mila euro. A luglio scorso quindi è stato esteso a tutto il territorio regionale il contributo previsto pari a un milione e 800 mila euro riservati però alle aziende zootecniche che allevano ovini, caprini, bovini ed equini per contenere i danni causati dai lupi, specie protetta, agli allevatori marchigiani. Gli allevatori in attività su tutto il territorio regionale quindi potranno acquistare o adeguare le recinzioni, dotarsi di dissuasori acustici e visivi, prendere cani pastore per contenere le predazioni dei lupi. Anna Casini, assessore all'agricoltura della regione Marche, evidenzia che il contributo previsto è pari al 100% della spesa sostenuta. Inoltre rispetto al primo bando dello scorso anno non è più necessario presentare tre preventivi. Le domande di finanziamento possono essere presentate tramite il SIAR, Sistema Informativo Agricoltura Regionale, e il termine per la loro presentazione è fissato al 31 ottobre del 2019.